Buonasera dalla TG1, accelerazione della crisi politica. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, salirà domani mattina al Quirinale per rassegnare le dimissioni nelle mani del Capo dello Stato. Tra le ipotesi in campo, quella di un reincarico per la formazione di un nuovo governo con una maggioranza più ampia e una prospettiva di legislatura. Partiamo da qui nel servizio d'apertura di Mario De Pizzo. Una giornata di voci che si rincorrono sulle dimissioni del Premier Conte di una successiva salita al Quirinale e metà pomeriggio quando la convocazione del Consiglio dei Ministri viene data per imminente. Ma col passare delle ore si apprende che la riunione si terrà domattina alle 9. Solo dopo Conte farà la sua mossa per superare l'unpass, salire al Quirinale, rimettere il mandato e puntare ad un reincarico per ricomporre una maggioranza in grado di ricostruire il Paese con il recovery plan. Il programma per un nuovo patto di legislatura, Conte lo ha già illustrato la settimana scorsa in Parlamento appellandosi agli europeisti, alle forze popolari e liberali che possano contribuire con trasparenza e nell'esclusivo interesse dei cittadini alla modernizzazione dell'Italia.